BELLRE REGODI SOMO QUI SU BROTHERS A TALY OF TWO SONS ok iniziamo vabbè gli direi di giocare nuova partita nuova partita nuova partita c'è morto no nuova partita nuova partita nuova partita nuova partita nuova partita nuova partita perché è cinese nuova partita nuova partita nuova partita nuova partita nuova partita di comandare due persone contemporaneamente ok ma che cosa ha quello lì sembra che sto morendo però non vorrei portare sfida quindi non c'è modo per fare meglio più veloce ok lì vedo una grande leva quindi presumo che quello ci serve per fare il ponte per creare il ponte per creare il ponte che figlio che figata che figata visto troppo ok andiamo ok andiamo ah no capito no 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 aspetta no non tornare niente ehm curvi come curvi così così ok allora intanto portiamo questo qua per fare il fratello minore qua ok poi questo qui lo come si salta ah l'ho capito allora lui fa la scaletta qui noi saliamo su ok adesso lui dovrebbe tirare la leva no perché adesso ci manca lui quindi con lui facciamo allora pello minore no come posso aiutarlo non sei molto utile ah qua c'è la corda ok ok adesso lui può salire ok fantastico è un po' complicato cioè prendersi un po' la mano ok e adesso facciamo cose facciamo cose no 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 dai ancora stirano adesso tu porti carretto ecco prendi il carretto no no cosa fai prendi il carretto ah poteva anche mollarlo ok lui dice di andare avanti basta lui non fa niente ok ehi aspetta tuo fratello ok 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 ah 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 insomma Ah 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 potevo addirittura quando ho giocato questo gioco qua che era in cinese percome inica altre lingue che c'era tranquillo che io ho capito tutto hai capito piccolino mi consente va bene penso che lui sia un suo padre ok allora siamo fuori e non ho capito cosa dobbiamo fare perché è cinese noi seguiamo la strada tanto la strada prima o poi porta qualcosa ci fai passare ah ma allora sei un po' ho paura dell'acqua va di mano non lo so apri le braccia vai andate tieni di qua non lo so però vedo la luce dove c'è luce di solito usano le cose belle faccio qualcosa ah figo ci sono un sacco oh cosa è lì eh proprio così hai ragione cioè c'è l'ingresso lì lui ci fa scalare le montagne No Ah ho capito cosa devo fare No ci sono arrivato un pochino tardi però Eh io Eh io Fammi arrivare Oh grazie E poi Non so cosa dire Dai fate il stretching Uno due Uno due Uno due Uno due Ok posto C'è del ghiaccio sui detti no perché scivolano Che puzza No No Bisogna andare di qua Ma non è neanche toccato Eh ma il fratellino Ci sono delle rose No cosa fai cosa fai No 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 Stai fermi Ok Ora portiamo lui Aspetta qui ora portiamo lui Ok salite Insieme Oh salite Grazie Eh sì ce lo facciamo tranquillo Ok Andiamo di qua Fai Ok Ok Oh mio dio che ce l'ha aperto No è ancora lui Cosa ridi Da No Non puoi fare niente Guarda che ti picchia Eh Eh no Qua ci minaccia con un bastone di legno Ci fa paura Ah no Aspettate Ci passa lui Sono Un Genio Non ci passa L'ufficione E Dove Ah è qua Vai Hai paura dei cani Va bene Ti ho riprosportato Boh Un'altra ora Adesso lì Adesso non fai più il perpotenza Cattivo Ok Siamo sul ponte Ok Adesso Adesso Oh cosa fai Eh sì 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 ho capito 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 Arrivo 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 Adesso Scusa Ma Ehm Se Ehm Ah sì, lui! Eh, oh! Oh, è il fatto! sempre a dormire stai eh che maledicato e poi non lo so e si hai finito di indicare cosa a caso grazie molto bello grazie posso mandare allora non mi dirai che devo tornare indietro no aspetta qui c'è una porta no basta indicare cosa a caso non mi sei aiuto ancora lui qui no aspetta un attimino che dovuto capire la situazione ok allora qui c'è un cancello dai spacchi il cancello fa vedere la tua forza da Hulk non possiamo andare perché lui non ha la forza da Hulk di Hulk allora ok ora di qua dove siamo passati no aspetta voglio capire cosa si possiamo andare ad aiutare quel signore lì questa signora qui eppure nessuna c'è una porta che non ci possiamo andare tu che casino avete un senso dell'orientamento che si perdono anche dopo tre metri c'è una cascata buttate buttatevi fatto il bagno no ok non fanno il bagno non fanno il bagno boi non so cosa fare quindi per questo video è tutto se volete un altro episodio o se mi volete dare dei consigli su questo gioco vi faccio volentieri se volete che lo porti avanti questo gioco cinese ma cioè è bello e allo stesso tempo divertente perché è cinese a parte questo se il video vi è piaciuto lasciate un like e non so non l'ho mai chiesto fa strano dirlo sta cosa però fatelo comunque e vabbè scrivetevi non lo so fate quello che vi pare non ci vediamo in un prossimo video e bella no aspetta 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 il video non è ancora finito perché ti voglio dire che lui dorme bene ciao bella